eccoci qua come ogni settimana vi propongo una nuova meditazione che potete fare quando siete in perfetta solitudine oppure prima di dormire immaginiamo di inalare questa nebbia dorata profondamente fino al cuore il tuo cuore è semplicemente vuoto lascia che si riempia di questa nebbia dorata adesso espirando butta fuori il fumo nero responsabile delle nostre preoccupazioni che ci affuscano la mente inspira altra nebbia dorata e percepisci il tuo cuore che si svuota e diventa sempre più leggero espirando diffondi altro fumo nero che stavolta si miscela la nebbia dorata e percepisci sempre di più questa sensazione di leggerezza prima di addormentarti devi svuotarti completamente immaginando di essere come un geyser dentro di te avvertirai un calore che ti abbraccia e scalda ammettiamo che senti freddo senza perdere il tuo temperamento continua a diffondere calore nel tuo corpo e ripeti dentro di te questo aforisma scalda cuore scoprirai che il successo della vita arriva molto più facilmente quando mantieni la mente fredda e il cuore caldo piuttosto che la testa calda e i piedi freddi grazie e ti aspetto alla prossima meditazione un bacio